Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Death Crown, un gioco che si trova su Steam a 12,45€ a prezzo pieno, lo si trova ogni tanto a 9,19€ se non mi ricordo male, ed è un gioco molto particolare, un gioco indie al 100% ed è un gioco che fa ampio uso del bianco e nero. In barba, a tutte quelle che sono le ricerche, alla grafica migliore e a tutto quello che ne consegue. Abbiamo la lingua italiana, anche se il gioco in modo molto divertente parte in coreano, infatti sono andato un po' a stima per mettere l'italiano. Alziamo un pochino il volume e proviamo la campagna. Campagna dei non morti o degli umani, che è un prequel. Possiamo iniziare quella dei... ma iniziamo quella dei non morti. Iniziamo, la giochiamo a normale. Possiamo giocarla anche in co-op, ma in realtà non lo faremo. Ed è un gioco estremamente stilizzato, composto di esagoni, dove potremo gestire la nostra avventura. Qui c'è l'orea che dorme. Ma chi è? La morte? Sì, direi di sì. Death Crown. Eh sì. Questa è la nostra città. Dobbiamo costruire una miniera. Possiamo costruire da solo il nostro territorio. La tua prima miniera produce 5 euro per ciclo. Ogni miniera successiva produrrà sempre di meno. Quindi possiamo andare col tasto V a piazzare una miniera. Ah, l'abbiamo piazzata lì? Ho sbagliato. Insomma, qua vedete la produzione di denaro. Puoi costruire una miniera ok. Ogni miniera produrrà sempre di meno. E quindi ci stanno attaccando. Sì, ci stanno attaccando e ci stanno facendo anche il paiolo. Costruisci una torre per proteggere la cittadella. È difficile capire le icone, ma la costruiamo qui e qui. Ok. E ora è una sorta di tower defense. Non c'è zoom. Però in pratica adesso il gioco ci sta insegnando come difendere. È meglio costruire le cripte dietro alle torre. E produciamo scheletri. Quindi la Q. È difficile distinguere le icone, lo ammetto. La costruiamo dietro la torre. Ok. E in questo caso andiamo a produrre degli scheletri. Ci stanno attaccando presumibilmente gli umani. Posiziona l'obiettivo per i tuoi eserciti. Quindi io clicco lì, lo trascino su loro. Ok. E a questo punto verranno generati dei nemici che attaccheranno qualsiasi cosa gli si porrà di fronte. Infatti vedete gli scheletri che stanno andando. È carina questa rappresentazione perché il signo erano completamente... Cioè praticamente i soldati passavano a fianco agli scheletri e mandavano dritti al loro obiettivo. Quindi qua abbiamo una produzione. Vabbè, cattura il cristallo costruendo accanto una cripta o una torre. Voglio fare la V, la cripta. Costruiamola qui. Allora. Una cripta o una torre? Facciamola E. Ah, qua devo farlo. Ok. No, allora fatemi fare... Quella era la miniera. Facciamo la cripta qua. Ok. Allora. Per prendere il possesso di un cristallo dovrai costruirci una cripta o una corda a fianco e i cristalli neri potenziano i tuoi eserciti. Perfetto. Quindi dobbiamo farci una torre. La facciamo magari anche qui con la E. La piazziamo lì. Ok. Praticamente bisogna cliccare due volte. Una, selezioni due posizioni. E di nuovo clicchi e la ricrea di nuovo. Distruggire le torre nemiche. Catture cristalli. Ok. Abbiamo questa. Posso dirgli di andare a prendere quella. E questo di andare a prendere quella. Quindi adesso stiamo pianificando. Abbiamo anche due torri difensive che difendono. Vedete gli scheletri che stanno andando avanti. Ma le torri attualmente si difendono. Quindi abbattono subito i nostri nemici. Però io pensavo. Faccio una Q. E faccio qui. Un'altra. E gli rimando sempre addosso. L'abbiamo vinto. Dai comunque. Ok. Hai vinto la battaglia. Ricevi un cristallo nero di ricompensa. Perfetto. Adesso puoi scegliere un edificio da migliorare. La miniera produrrà più oro. O la torre si ricreverà più velocemente. La cripta creerà eserciti. Ma io potenziare la torre. È arrivato il momento di punire questi miserimenti. Per attaccare selezionare un'area assegnata a una bandiera nera. Ok. Bellino. Cioè. È stilizzatissimo. Ma ci vuole impegno anche per fare questo. Ok. Dai. Attacchiamo questa. Sei sicuro di voler attivare la battaglia? Sì. E' carino. E' una delle prime volte che però vengo messo proprio in difficoltà dalla grafica. Perché è spiazzante devo dire. Allora iniziamo a mettere la miniera. La miniera la mettiamo qua. Ah no la devo metterla qua per forza. Perfetto. Iniziamo a mettere... Beh iniziamo a produrre dell'oro in modo che a 30 d'oro... No scusate 25 d'oro posso farmi la torre difensiva. Ok. La piazziamo qui. Bene. E adesso ci facciamo anche una cripta. A breve. Così allarghiamo i nostri possedimenti. E andiamo a prenderci i cristalli. Tanto vedete quello che sta facendo il nemico. Ok. V. No. A35. Facciamo la cripta qui. Ok. E gli diamo il compito di andare là. No non vanno. Devono attaccare loro. Ok. Eh loro stanno facendo la stessa cosa su questo. Quindi io adesso piazzo una torre lì. Ok. E poi piazziamo anche una torre qua davanti che dovremmo sempre mettergli una... Mettergli una cripta dietro o una torre. Questa era il via. Adesso entrano. Li attacchiamo. Difendiamo. Perfetto. Mettiamoci un'altra cripta qui. E li mandiamo sempre ad attaccare di là. Eh stanno attaccando anche loro eh. Devo dire che... Dobbiamo conquistare. Quindi facciamo un'altra torretta qui. Così potenziamo anche la... E ci stiamo allargando verso questi. Mettiamo una torre qui. Vicino al cristallo. Così prendiamo il cristallo. Stessa cosa che hanno fatto anche loro eh. Quindi... E stanno anche costruendo... Costruendo delle fortezze. Quindi io direi di andare ad abbattergliele subito, immediatamente. Questa fortezza qua. È... È eccezionalmente tattico. Perché è veramente eccezionalmente tattico. Perché... È molto attivo il nemico. Eh... Ho piazzato per sbaglio una torre. Vabbè adesso piazziamo una cripta. La mettiamo qui. E mandiamo tutti ad attaccare di là. E voi attaccate lì. Ok. È incasinatissimo sta cosa. Facciamo una miniera d'oro anche qui. Così almeno... Produciamo ancora più oro e riusciamo a difenderci più agilmente. È anche difficile andare a capire cosa sta succedendo. Perché l'oro si stanno espandendo veramente... Veramente... Veramente bene. E ci hanno distrutto una cripta. Che io ricostruisco o non la ricostruisco qui. E faccio una torre. La E la piazzo qui. Così almeno abbiamo più... Più forza. Ok. Ok. Mamma mia sono fortissimi sti qua. Ok. Devo fare un'altra cripta. Qui. Ok. Così voi attaccate sempre lì. Anche solito vedete tutte le mura. Noi abbiamo la campagna dei... Dei non morti. Quindi non abbiamo la campagna umana. E quindi gli edifici sono di conseguenza diversi. Però qua stiamo andando veramente male. Stiamo andando veramente male. Perché non abbiamo... Non abbiamo abbastanza soldati per coprire tutto. Attaccate questa. Attaccate questa. Attaccate tutti quello. Così almeno lo abbattiamo. Ok. L'abbiamo abbattuto. Iniziamo a dare un compito diverso a ognuno di questi. Voglio continuare con la produzione delle cripte. Ok. Cripte, cripte. Tante cripte. Che generiamo tutto in... È veramente un gioco di estrema nicchia questa. Io metto torri. A destra e a sinistra. Perché ne sento la necessità. Sto anche accumulando parecchi soldi. Quindi... Do i compiti. È veramente confusionario come stile di gioco. Perché... Ci hanno distrutto la cripta qui. Fammi fare una cripta qui. Attacca lì. Attacca là. Attacca lì. Bravi. Ognuno attacchi qualcosa di diverso. Perché... Costruisco cripte come se non ci fosse un domani. Ognuno la faccio attaccare a un luogo diverso. Così almeno... Vedete le bandierine? Dove stiamo attaccando attualmente? Ma non c'è un momento di pausa. Non c'è... Niente. Dovremmo allargarci. Ma vedete abbiamo perso tutto il territorio qua davanti. Quindi... Dobbiamo... Dobbiamo costruire qualcosa. Dobbiamo prenderci possesso del cristallo. Andare a invadere la regione. Abbiamo finito anche i soldi. E non sta andando proprio benissimo. Anche se loro stanno continuando ad attaccare da questa parte. Io voglio fare una difesa anche qui. Voglio espandere il possedimento dei cristalli. E di qua non abbiamo più niente. Però... Adesso appena possiamo... Facciamo un'altra miniera d'oro qui. Qui. Ok. Attaccate, attaccate. Non ci incischiate. E... Mettiamo la torre di qua. Perfetto. E appena possiamo facciamo altre cripte. Ah, altra torre anche lì. Che loro vogliono attingere al cristallo. Cripte di qua. Scusate ma... Se io gli dico di andare ad attaccare là... Vediamo un po' cosa fanno. Vanno su. I soldati. Facciamo la torre anche qui. Eh, qua... Qua ci stanno facendo un po' il paiolo. Non sta andando proprio benissimo. Però... Immagino anche che non sia un gioco proprio per tutti questo. Perché... È veramente... È veramente... È veramente difficile da gestire. Vedete che adesso stanno andando su... Gli scheletri. In questo momento stanno attaccando. E attaccano quello che incontrano sul loro percorso. Cioè incontrano il castello e attaccano il castello. Io devo difendere. Devo ricostruire le torri di nuovo. In modo da potermi difendere bene. Vedete qua... Siamo... Non siamo messi proprio benissimo. Dovrei farmi una torre in modo da poter prendere anche il possesso di questo. Questo. Abbiamo tutto il territorio sotto adesso. Dovremmo spostarci a conquistare di qua. Però... Vediamo se ce la facciamo. Q. Voi attaccate lì. Voglio andare ad allargarmi. Cioè è una partita estremamente atipica. Perché... Vedete... Ognuno ha il proprio cuore. Il nemico ha un cuore più di noi. E... Noi siamo messi un po' peggio. Sta giocando decisamente meglio il nemico. Però... Cerchiamo di portargli via un territorio. Mettiamo attacco lì, attacco lì. Abbiamo vinto! Abbiamo vinto un po' per il rotto della cuffia. Però abbiamo conquistato il territorio. E quindi ora possiamo andare a potenziare un altro... No. Non possiamo fare nulla. No. Bisogna cliccare un'altra zona in cui andare. Sei sicuro che voglio avere la vittoria della battaglia? No. In pratica abbiamo conquistato questa. Ora dovremmo andare o qui o qui. E siamo solo nella campagna... Dei non morti. Perché poi abbiamo la possibilità di giocare la campagna demone, demo. Perché non è ancora uscito. O la campagna degli umani, prequel. Che dire... È un indie, sicuramente. Il prezzo non è altissimo. È interessante. È lo stile grafico. Non piacerà alla maggior parte di voi. Probabilmente perché tanti di voi so che sono attenti alla... Alla forma, diciamo. Però qua vedete che già cambiano gli edifici. Abbiamo il mulino. Abbiamo il fortino. In pratica è il fortino che genera i soldati. Abbiamo il mulino che probabilmente genera i soldi. C'è proprio tutto un concetto diverso. Vedete che già tatticamente è una partita a scacchi. Perché ci ha mostrato che loro hanno fatto la stessa cosa che abbiamo fatto noi. Abbiamo mandato i nostri soldati a fare quello. Qua abbiamo una sorta di tesoreria. Che piazziamo subito. Così aumentiamo la produzione d'oro. I nostri sono umani adesso. Quindi non morti. Sono i non morti che ci stanno sferrando i colpi decisivi. Però stessa cosa stiamo facendo noi a loro. Appena generiamo un po' di soldi. Andiamo a costruire dell'altro. Lo facciamo un altro di questo. Ok. Ho distrutto per sbaglio. Loro stanno aumentando le cripte ad esempio. Ne continuiamo ad attaccare ma in realtà mi servirebbero altri soldi. Stiamo perdendo credo. Non so. Vediamo. Loro intanto stanno costruendo qualcosa qua. Magari una torretta difensiva. Cosa che al momento non hanno. Stiamo facendo fatica. No. Istraggono soldi. Con la V. Abbiamo perso giustamente. Abbiamo perso. E vedete che questa è la mappa della partita della campagna degli umani. Questo era Death Crown ragazzi. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Ovviamente non è un gioco per tutti. È un indie puro. Insomma io non posso portarvi sempre indie puro. Un indie puro. Ma quando capita perché no. Insomma fatemi sapere ragazzi. Alla prossima. Ciao ciao. 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 Ciao.